Per questo Natale fai gol con noi! È stato un anno difficile ma pieno di soddisfazioni. Come si prevede questo 2021? Speriamo che sia meglio e soprattutto da un punto di vista della pandemia per un discorso umanitario di tutto il mondo. Per quanto riguarda lo sport abbiamo fatto dei passi da gigante, siamo partiti non benissimo e adesso però la struttura la stiamo migliorando dal custode fino al presidente. Il presidente per primo si è migliorato, ha capito tanti errori e quindi stiamo facendo il meglio possibile. È importante lavorare nella scuola calcio, i bambini sono tutelati al massimo con tutte le possibili sicurezze che ci possono mettere sul campo e poi stiamo migliorando anche la prima squadra che deve avere un obiettivo ambizioso. Bene, allora facciamo un augurio a tutti i nostri ragazzi e a tutti i nostri tifosi. Un grande augurio di un buon Natale, di un buon fine anno, purtroppo un anno difficilissimo e speriamo che il 2021 sia invece foriero di grande felicità, serenità e salute soprattutto io. Viva ragazzi! Viva ragazzi! Ragazzi, arrivi per la dubbietà, prima di tutto il suo Natale!